ciao bentornate sul mondo cosmetic lo so manco da un sacco di tempo forse non ve ne siete neanche accorti però sono tornata tante novità in breve ok vabbè parlo sempre della mia favolosa meravigliosa i brochet ma c'è una novità che forse non sapete sto frequentando l'accademia per diventare amica party sì finalmente allora in questo per dirvi che sicuramente i video saranno un po più strutturati sicuramente sempre tutta la parte dedicata alla mia amatissima azienda ma sicuramente mi soffermerò anche a parlare di alcune recensioni di prodotti che io utilizzo adesso un po più nello specifico perché li utilizzo per lavorare e perché ho avuto il piacere di conoscere e provare molti prodotti per cui ne parleremo ne parleremo quindi spero di essere più attiva di prima di essere sempre più presente e di strutturare meglio i video andiamo avanti parliamo subito del nuovissimo album 2 un video piccino ma giusto per sfogliare un pochino insieme l'album 2 perché da un po che non ne parliamo dei nostri meravigliosi prodotti brochet se ti piace il video ovviamente metti un like iscriviti al canale se non sei iscritta e seguimi magari metti la campanella perché arriveranno i video questa volta sì allora parliamo dei brochet da un po che non ne parliamo quindi sicuramente da me non avete sentito ancora tutte le novità che ci sono vi assicuro che ci saranno delle novità nel 2018 meravigliose per cui seguitemi seguitemi perché le proveremo insieme le studieremo insieme parleremo di tanti prodotti in ogni caso guardiamo un pochino l'album 2 quest'album è iniziato da poco il 15 febbraio e terminerà il 7 marzo dico subito se sei interessata ai prodotti di live rochet e vuoi acquistarli con uno sconto personale o ti va di provare l'attività di beauty promoter quindi far conoscere al mondo i nostri prodotti ricordati che puoi farlo senza impegno senza investimento senza obblighi aziendale senza niente e come incentivo in più come regalo alle persone che attiveranno il loro codice cliente entro il 27 febbraio quindi manca poco il regalo l'azienda ci manda un bel guanto struccante un guanto che non necessita di detergente ma che strucca benissimo solo con acqua tiepida e che toglie anche il trucco waterproof quindi oltre ad avere uno sconto personale abbiamo anche questo meraviglioso regalo che tra l'altro è un prodotto che non può essere acquistato quindi non è in vendita detto questo entriamo nel vivo dell'album a ovviamente se ti va contattami o qui entra nel mio team contattami seriamente o qui o in privato trovi il numero di telefono l'email nell'info box e magari seguimi se ti va di rimanere aggiornata allora entriamo in questo è un prodottino novità è un prodotto che esce proprio con l'album 2 ed è il nuovo trattamento giorno notte della linea serum linea compattezza la linea serum è una linea anti age con l'estratto di diciamo il nostro principio attivo e l'erba cristallina come vedete dalla foto dall'erba dal principio attivo dell'erba cristallina nasce la nostra crema che di cui ne è ricca allora iniziamo subito i primi incentivi dell'album 2 ogni 15 euro di acquisto per un prodotto o per prodotti della linea anti età l'azienda ci regala il siero formato mini abbinato se poi acquistiamo 15 euro di prodotti non anti age quindi qualsiasi tipo di prodotto bagno doccia crema per i capelli profumo o quant'altro ogni 15 euro l'azienda ci regala un mini trattamento della linea anti age in appunto in omaggio a scelta quindi se io ho esigenza di avere una voglio provare una crema viso con effetto lifting prenderò ovviamente la crema effetto lifting quindi ogni 15 euro di spesa ci omaggia di un mini se abbiamo acquistato trattamenti anti età il siero abbinato se abbiamo acquistato prodotti non anti età trattamenti viso della linea che preferiamo come vi ho detto il lancio della nostra nuova meravigliosa linea serum vegetal giorno notte quindi è una crema per quelle persone che sono tra virgolette un pochino non hanno un po voglia di curare il viso sono pigre e quindi magari non amano tantissimo utilizzare una crema giorno non conoscono ancora a fondo l'importanza di una crema notte per cui l'azienda ci ha accontentato creando la linea giorno notte della linea ovviamente anti age non entro nel dettaglio della tipologia di per chi è indicato o meno un determinato una determinata linea perché quello facciamo dei video dedicati con i video scopriamo insieme perché tanto quella rubrica non la lascio quindi che mi piace quindi per ogni trattamento anti età abbiamo un'offerta specifica quindi vi faccio vedere questa poi c'è per tutte le linee abbiamo crema filler occhi e labbra e una pochette carinissima in regalo a un prezzo piccino piccino per diciamo il prodotto è di altissima qualità abbiamo due prodotti importanti un omaggio vicino a un prezzo piccino quindi bisogna usufruirne questo ovviamente per tutte le linee quindi io scorro abbastanza veloce proprio perché sono comunque per ogni linea abbiamo il trattamento di riferimento poi ovviamente inizia quindi fino a questo punto qui era tutto il diciamo il programma ogni 15 euro di acquisto fino a questa pagina avevamo insiero di riferimento da questo momento in poi inizia invece l'incentivo per avere un trattamento viso specifico iniziamo con le linee basic quindi le linee non anti age per tutti diciamo per le diverse tipologie di pelle poi vi spiegherà nel dettaglio la vostra consigliera di bellezza o se vi avvalete del negozio ricordate però che nel negozio alcune referenze quindi alcuni prodotti non sono disponibili sono acquistabili solo dalla consigliera di bellezza quindi solo con l'ausilio dell'album cartaceo quindi o se avete la vostra consigliera di bellezza in riferimento chiedete a lei oppure insomma diventate voi il consigliera di bellezza poi abbiamo il nostro la nostra linea io questa l'amo perciò mi soffermo un attimino l'ultimo video che io ho fatto dedicato alla linea purcal mille in realtà ne ho fatti due era dedicato al detergente della linea purcal mille che io ho amato follemente che ancora oggi amo ma devo dire che nonostante la linea è stata riformulata è stata rilanciata insomma è cambiata un pochino io continuo ad adorare allo stesso modo perché la delicatezza diciamo l'efficacia che mi dava anche la formulazione vecchia me la dà anche adesso adesso ci sono dei prodotti nuovi come questo che come vedete io ho terminato che il favoloso olio micellare sarà soggetto di un prossimo video proprio di scopriamo insieme perché è veramente eccezionale quindi la linea della della purcal mille cambiata i nostri struccanti quindi occhi delicato e bifasico nelle due nei due formati specifici e poi abbiamo il prodotto novità questa qua è una crema corpo idratante rassodante abbiamo come vedete la novità anche del guantino questo in realtà viene suggerito come utilizzo abbinato al nostro esfoliante alla bicocca che è ovviamente un esfoliante un po più diciamo profondo rispetto a quello che può essere allo zucchero della linea le plaisir perché ovviamente il nocciolo di abicocca ci aiuta ad esfoliare in maniera più specifica il nostro corpo ovviamente l'ausilio del guanto esfoliante rendiamo proprio tutto il top e questo permetterà ovviamente alle creme che andremo a utilizzare dopo di penetrare più a fondo nel caso specifico la nostra nuova linea come vi dicevo prima due in uno perché è idratante ma nello stesso tempo rassodante è il principio attivo è la centella asiatica e diciamo diciamo la centella asiatica è un'attivatrice del collagene che ovviamente è fondamentale per rendere tonica la nostra pelle quindi poi tutta la linea dedicata al nostro corpo io vado avanti mi vorrei soffermare particolare sulle offerte che abbiamo o comunque le offerte un po più importanti poi abbiamo i nostri integratori alimentari che vi ricordo sono disponibili solo con la vendita diretta quindi non li troverete mai nel negozio e nel nostro caso specifico abbiamo l'offerta del set due prodotti della linea giorno notte a 29 euro e 95 considerate che solo uno viene venduto a 19 euro e 95 prezzo offerta quindi capite bene che è veramente un'ottima opportunità e vabbè all'interno contiene tè verde e fico d'india e ovviamente contribuisce al drenaggio dei liquidi all'equilibrio del peso corporeo ovviamente ragazze tenete sempre conto che sono degli integratori alimentari non fanno male ma ovviamente per avere dei risultati bisogna comunque avere una buona diciamo avere un buon rapporto con il cibo quindi una sana alimentazione e perché no anche un po di movimento che quello non guasta mai ma proprio come base quotidiana indipendentemente dall'utilizzo meno degli integratori poi abbiamo tutti gli altri integratori e poi abbiamo un'offerta che secondo me è meravigliosa abbiamo l'offerta di due matite vegetali colore vegetale a 12 euro a 13 euro e 95 considerate che da sola una matita costa 9 euro e 95 questa matita ha un colore molto pieno molto pigmentato ed è veramente eccezionale amatissima come matita è temperabile ha un colore molto pieno come vi dicevo molto molto pigmentato ed è ottima per riuscire a fare la linea la linea sull'occhio la linea da eyeliner potrebbe anche essere sfumata quindi in realtà è veramente un ottimo prodotto e questa offerta generalmente quando c'è va diciamo proprio a ruba perché sono molto amate queste matite abbiamo poi gli altri prodotti occhi vabbè non avete visto ancora con me ovviamente le nuove matito jumbo e non avete visto con me sempre il mascara e la nuova matita sopracciglia che ve ne parlerò più avanti perché ve le faccio vedere e sono un prodottino niente male devo dire la verità soprattutto per le amanti di diciamo diciamo del della perfezione delle sopracciglia che poi tra l'altro è un po la cornice del nostro viso per cui dobbiamo dedicarci un po di attenzione e la mascara e la matita sopracciglia in questo caso sono veramente eccezionali abbiamo tutti i nostri ombretti con un piccolo insertino centrale dedicato alla donna i colori diciamo dei nostri prodotti che richiamano un po quello che è il giallo il colore della mimosa della festa della donna quindi all'interno abbiamo dei piccoli inserti con i prodotti specifici e poi continuiamo col makeup quindi tutti gli ombrettini mascara e ovviamente la novità che è stata appunto novità e protagonista dell'album 1 che sono i nuovi rossetti gran rouge ultramatte due parole poi entramo nello specifico nel video dedicato abbiamo adesso i nuovi rossetti vertige abbiamo dei vecchi gran rouge sono stati sono cambiati e sono diventati appunto nuovi quindi abbiamo delle nuove colorazioni una nuova texture dei gran rouge ma sono sempre i nostri gran rouge quelli proprio amatissimi poi abbiamo il rossetto nuovo novità ultramatte della linea gran rouge quindi con un effetto opaco veramente molto confortevole perché non secca le labbra e poi abbiamo la tinta o meglio tutti li la chiamano tinta anche se qui non c'è perché è stato in offerta nell'album precedente abbiamo l'elixir gran rouge che in realtà è un rossetto liquido matt quindi con finish matt a lunga tenuta che non secca le labbra ed è diciamo molto pigmentato perché ne serve pochissimo per diciamo dare colore alle labbra in questo momento io indosso il numero 101 ed è questo qui eccolo qui non so se si vede qualcosa ogni volta che faccio questo non so se si vede in ogni caso è questo qui forse mi ho fatto vedere ma eccolo qua è il 101 questo qui ed è della famiglia di nude poi abbiamo i nostri matitoni grossi il labenossi primer e la novità che anche qua come non avete ancora visto ma sono cambiati i primer che avevamo prima avevamo le basi preparatrice adesso abbiamo il primer unica colorazione leggermente luminosa per dare un effetto ottico senza imperfezioni e cosa importante di questo nostro primer è che è senza alcool senza parabeni e senza color... cioè insomma è fantastico no senza oli minerali senza coloranti e senza parabeni e siliconi quindi è veramente coloranti ovviamente parlo artificiali e ovviamente è un prodotto molto molto performante di può essere utilizzato sia prima del fondotinta prima del fondotinta quindi steso con il pennello o può essere utilizzato unito al fondotinta ed è meraviglioso ovviamente se utilizzate un fondotinta con finish matt non verrà falsato dalla leggera luminosità del primer quindi non vi preoccupate per questo i nostri fondotinta classici poi abbiamo vabbè gli smaltini i profumi fate attenzione ai profumi perché spesso vi perdete delle occasioni da catalogo ad esempio le Evidence che il profumo io dico Evidence non so pronunciare francese è uno dei nostri profumi più amati veramente in assoluto è adorato questo profumo ed è tra l'altro il profumo che viene dato il regalo con il secondo ordine Yves Rocher in offerta adesso su album formato da 50 ml costa 26,95 ragazzi 36,95 avete il doppio del prodotto quindi occhio fate attenzione poi vabbè tutte le linee dei profumi qualche offerta dedicata ai maschietti quindi in particolare per la festa del papà poi abbiamo tutti i prodotti capelli di cui adesso non mi soffermo ma ne parleremo con calma e poi vado direttamente nell'ultima offerta che è quella che chiude ai nostri gel doccia concentrati favolosi Act Beautiful ricordatelo e parliamo dell'ultima offerta dedicata dell'album 2 due doccia bagno doccia della linea Le Plesier con fragranza scelta da formato da 400 ml quindi bello grande perché ricordate ce ne vuole poco a 6,95 euro potete scegliere appunto le profumazioni che più vi piacciono scelta tra tutte quindi vi ricordo abbiamo il pompilmo e il timo mango e coriandolo, lampone e menta peperita mela grana e pepe rosa che è una nuova fragranza fior di loto e salvia che è anch'essa una nuova fragranza lavandino e mora abbiamo mandarino e legno di cedro, mandorle e fiore d'arancio, olive petit grain fiore di chiare e lang lang che tra l'altro anche questa è una delle nuove profumazioni noce di cocco, vaniglia barbon che sono le nostre best cioè noce di cocco e vaniglia sono i nostri best amatissimi ovunque e i nuovi prodotti proprio con lancio sono fiore di cotone e mimosa e magnoli e tè bianco quindi ricordate due di queste belle bottiglione solo 6,95 euro io ho cercato di fare il video più conciso possibile ovviamente è venuto lunghetto perché sfogliare l'album è sempre bello e comunque un po' lungo perché ci sono tantissime offerte in ogni caso io vi aspetto nel nuovo video, vi aspetto in tante, lavoriamo insieme, seguitemi sarò felice e vi aspetto con tante novità vi mando un bacione, ciao!